in città belli anche italiani ma non è che ci siamo skype ma manca qualcuno davide ma qualcuno sa ma qualcuno sa che cazzo di indirizzo è ingegneria ma carmine non è ancora entrato si è entrato ma sono nella squadra con voi no 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 i materiali infatti le squadre sono cambiate perchè non era la rivincita ma abbiamo preso il signor cura abbiamo lasciato un'intera gatti scherzo della squadra abbe dai io ne sono cambiate le squadre stanno faccio domani posto che carriera ha messo lei e quindi stanzo non sono tutto il suo numero di dei e sono più forte ieri e di legge attivo e corretto ha fatto così io mi sento il tuo percorso a giocare io non ho smattiva io non ho messo il risultato non ho messo il schioff appunto Invece qualcuno gioca all'Hallow Blade in Soul, no, vero ragazzi? No, io gioco ogni tanto a Dota Eh, ce l'ho pure, però ho giocato una partita Guarda, di quanto rapporto hai, allora Minchia, non è Guarda, bestia rara, non muore, non muore Ah, non muore, non muore Infatti, ho ammazzato l'Icone, per me la partita è finita Io non mi sono ammazzata, volete Il mio obiettivo è stato confuso Devo andare ad aiutare quel signor culo Guarda, Lofi, guarda che bastardo dietro la porta Ma come che... Eh, non l'hai mai pigliato Dietro, 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 dietro di te, Tacchino, dietro, ti stai inseguendo Mi sono ammazzato Carmine, sei una merda, capisci, ferma lì, scacco di cono Ah, Tacchino Ma voi, Carmine, non erano No Sì, comunque mi nasce da Davide Beh, Carmine, lei è quattro c'è Abbiamo vinto, abbiamo visto Ah, secondo me è amore fra Davide e Sì, a casa con me Sì, come è il caccio sulla ricotta Sì, il caccio sulla ricotta Possiamo venire al vostro matrimonio Ma tu m'hai sparato da lì, cacchino No, 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 fai Ma non torna le liquidizie Mi sono venire al cazzo loro Dai, signor culo Non chiedermi come sia possibile Matteo ammazzato Non so che l'ho fatto Davide, Matteo ammazzato Cioè, controlli In principio della fisica Somma, gioca di una scherzi, una scherzi Cioè, credo che secondo me Perché Mi dice culo insomma Ho vinto 20 euro al gratuito e bici Ah, basta Non ce l'hai scommigato Non ce l'hai scorsetto Diccio, eh, sono I miei 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 mănza io lo so c'è paura c'è paura toga era da Kino Furioso toga toga ma te hai fatto ti è malato poi mi spieghi che ha del bacio mamma mia il belasso in una mano e' un po' più lontano però no no appena così no c'è le icone c'è le icone attenzione che c'è le icone e' bello bene ci fa carmine neanche con vento bella bella questo cazzo di usi che ti viene anche giusi è spettacolo d'accordo di giustare le icone non è to' onesto non ho capito quello di giusi è diverso no non ho ancora eh però l'uzie da vicino ah dal suo si è diverso in un altro modo quello di giusi è molto più preciso il mio è sempre più bello di avere in mano un fluratore quello più bello ma come cazzo fa ma non è possibile preparerai tanti nuovi santi ma nooo ma dai tutti quanti siete morti vabbè piazza sticcione noi ma come si chiude cosa bucciatrissima bravo tanti questo è colpato tuttavia il signor culo ah è colpa che io c'ho un mitra nuovo e non avendo la raffica continua mi devo ancora abituato eh dai vicino si è un po' fottuto dai vicino sono proprio fottuto alla grande perché prima questo qua sarebbe stato headshot tranquillo vabbè non è possibile lo riportiamo percinto per favore grazie non è possibile gli ho sparato un caricatore intero e lo hai sparato guardalo sto bastardo io mi ho ammirato la flashing tu bastardo io ne sono stato io ti sono sparato gentilmente vai 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 signor culo vai scendi giù scendi le scale signor culo ciao io te l'ho detto scadio io non so come cazzo fai scassimo perché non l'ho ucciso no cazzo vai nel frattempo tu scappa tacchino tu mi fa la fa madonna vera stavo con un cazzo di niente di rinno dai t'avevo preso prima quando ho scappato si vai ti ooooh vabbè ci dobbiamo organizzare no a vichino più che la bomba no no mamma pari che l'avamo visto questo questo ci avrà anche un nome ok per te per te dicevi dicevo fammi un cazzo di bombine prendilo tutto in bocca e affogano sto progetto come cazzo oh i soffocotti uuuu le parole non c'erano non c'erano non c'erano nooo si ma cosa l'avevo visto tizio l'avevo visto su noi siamo gli h con la coda dell'orecchio bravo bravo vabbio vieni con te no no non ci hai incontro ammazzati fermo aspetta va a riscato dei giri chiamato un po' pop con voi che si ammau e raga il risultato da vabbè non è possibile partono come l'ho fatto per fin oggi attenzione a scaricere salsicione l'altro lato di fronte ecco ecco mi spiegare che la bomba non si può prendere all'inizio perchè non la devi difendere ah la devi difendere ok attende 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 che gioco stiamo in casa vanno cacchi ammazzati 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 ammazzati